hai dipingato la traccia del GPS? la teniamo, la teniamo! la teniamo la traccia! la teniamo la traccia, oggi facciamo tutte cose, tutte cose, ma rossi, che è questo bordello sopra la montagna, a coppa la montagna, perché fanno bordello in coppa la montagna che stiamo sentendo, il GPS lo teniamo, lo teniamo il GPS, oggi ci sono cazzini ma non ci stanno cazze, margherita, margherita, ma devi stare a Napoli con questo sole qua! buongiorno a tutti oggi ci è presa così cazzeggio con le nuove puntate che scoprirete video per video di questa montagna tinta e niente siamo qui a Rocca di Cambio e partiremo dalla chiesa, come si chiama? di San Pietro, la chiesetta degli Alpini di San Pietro si chiama in qualche modo, comunque abbiamo lasciato la macchina qui su vicino al paesino, non devi dare brutte vicende che stanno accadendo ultimamente alle macchine di chi va a scalare, questi furti, furtarelli da quattro soldi, questi quattro deficienti e niente quindi prenderemo qui il sentiero, non ricordo cosa, però che facciamo oggi? monte ocre, monte cagno e monte cefalone, ok quindi oggi faremo monte ocre, cagno e cefalone tre vette per noi per 15 chilometri di percorso con circa 1000-1100 di dislivello comunque come sempre, non manca mai, lui c'è sempre, ormai è diventato un trekker, hiker e tutto, uomo di montagna, grande zio ma tu sei cero, sei cero sei? io sono cero ma andavano ammazzato, una capucciata, andavano ammazzato, andavano acciso, così io sabato posso dormire, e andiamo, andiamo, andiamo forse a qui dobbiamo passare, io ho paura di questa cosa, lì c'è il segnale, io ho paura, se mi sbaglio ho le gambe corte fai la macarena vai, no io ho la gamba corta, fai la macarena, tutti i peli sotto e quindi da qui, da questo segnale sulla strada, andiamo verso la chiesetta degli alpini ragazzi, il canale continua a salire, continua a crescere, quindi ribadisco sempre, se siete nuovi, se è il primo video che vedete iscrivetevi al canale, seguiteci, e noi portiamo in giro, facciamo vedere tutti i posti, tutte le viette non è mica male, buona visione e subito dopo la chiesetta degli alpini troviamo il sentiero R9 che ci porterà a Monte Cagno e Monte Ocre chissà è una bella di slivelle la cruce Nemeis madonna mi che caldo a come fa Monte Rotondo di là tutto il Sirente Mamma Maiella e quest'altra parte meravigliosa tutto il Parco Nazionale del Gran Sasso con le sue vette vai sino qui giocca di ganga portale cazzo cazzo salita al Monte Ocre che parte subito bella ignorante in pochi minuti e qua sotto siamo su e ci avviciniamo alla cresta e da qui il cammino di qualche settimana fa dove da dietro da Campo Felice siamo saliti su per la Serra Lunga ho fatto tutta la cresta poi saliti su Monte Rotondo Monte Cisterna e quello del Nibio per riscendere giù a Campo Felice agli impianti questa zona l'abbiamo battuta quasi tutta ormai e niente andiamo avanti e qui è un vecchio rifugio diloccato bella bella posizione ma quando cazzo arriva l'ora d'aria? e tieni ragione ma già scassa tu cazzo quando arrivo? non si può accadere è una cella piccola piccola sono le 11 uscite dalla suite che questa è la suite della carcere andiamo a uscire scusate ma tu che cazzo sei? sono caguarda e stai buona ma sai chi sono io? io sono stara ricci assi i 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